La situazione era già compromessa in maniera quasi definitiva anche prima di questa partita. Per cui parlo di una prestazione che sicuramente mi ha soddisfatto, che sicuramente ha dato continuità alla prestazione che avevamo offerto la settimana scorsa. Nonostante lo svantaggio la squadra non si è demoralizzata o abbattuta, ma ha cercato addirittura di ribaltare il risultato. Alla fine ci speravo veramente che sarebbe stato un premio ancora maggiore per l'impegno profuso anche in una giornata triste.